SIGLIO il venerdì delle terrazze e anche questa sera un percorso musicale che vi porterà dagli anni 70 agli 80, ai 90 ai 2000, voglio sentire l'urlo di tutti quelli nati negli anni 80 a bruciarti ripeto, la serata è revival è vintage, allora voglio sentire l'urlo di tutti quelli come me nati negli anni 70 lo vedi? lo vedo che siamo tanti pochissimi saranno quelli nati negli anni 60 è pieno di vecchi questa sera vabbè ma questi fa mezz'ora che arrivano a casa e sicuramente non ci sarà nessuno, credetemi, nessuno nato negli anni 90 io che mi scherzi vabbè abbiamo una guest famosissima un duo meraviglioso gli anni 90 che picchiano gli anni 90 ed è giusto che ci siano i ragazzi gli anni 90 bene vediamo se siete pronti vediamo se siete caldi amici delle terrazze buonasera a tutti a presto